Buongiorno amici di Pistaglia Sport, sono tornati al Mucero a San Antonio Weekend, pronta gara, terzo di ieri, poi ci parto in volata, un po' a distanza dal primo Cosa è proprio? Beh, oggi è stata una bella gara, perché c'è questa cosa, come ieri Peccato l'ultimo giro è perché me l'ho spiegata bene E' un bel debito, ho la fortuna visto che ieri forse l'ho messo meglio con i consumi E' arrivata una bandiera rossa, proprio nel momento propizio Sì, quella è stata, anche lì, quella sta posizionando bene, l'homente, però troppo ci sono ieri Non so mai che ai rossi, che ci sono un po' buongiorno E insomma, le ragazze che non stanno scambi di rossi, quindi l'homente Questi appuntamenti a fine luglio Misano, doppia gara, poi un nuovo che è in Mugello E poi gran finale a Isola, sempre un doppia gara Poi possono essere gli appuntamenti da cecchiare in rossi Ci rivediamo alla prossima, amici Ciao a tutti, ciao